Buongiorno e buon caffè! Ci voleva. Mi è stato suggerito di continuare a parlare della relazione specificando cosa intendessi con indicatori. Lo faccio molto volentieri. Io credo che ognuno dei sei assi della relazione, ognuno di quei sei fattori fondamentali, che sono simpatia o rapporto, stima, fiducia, rispetto, empatia e vantaggio, abbiano degli indicatori, cioè delle situazioni, dei comportamenti che io posso osservare in me o negli altri per capire se effettivamente la relazione sta migliorando, la relazione sta esistendo, la relazione è consistente. Per quello che riguarda la simpatia o rapporto, ad esempio, è il piacere di stare insieme, perché questo piacere di stare insieme ha necessariamente una componente, chiamiamola così, di superficie, chiamiamola fisica, di pancia, se volete. Io penso a un collega, a un amico, innanzitutto se è un amico dovrei avere piacere a stare con lui, ma se è un collega magari non necessariamente sento il piacere di stare con lui. Questo non toglie che io abbia stima di lui, cioè chieda dei consigli, chieda dei suggerimenti, chieda dei pareri su quello che è il mio aspetto professionale o quello che nel caso dell'amicizia è il mio aspetto educativo, se sono un genitore e cerco amicizia in un genitore. Però non ho il piacere di andare per forza a mangiare una pizza con lui, prendetelo come esempio. Questo è una misurazione per quello che riguarda il rapporto. Per la stima abbiamo già detto, per la fiducia che è nel mettersi nelle mani degli altri, gli indicatori possono essere la mia capacità di effettivamente far decidere a lui, far decidere a lei, lasciare le redini della mia vita, della mia situazione attuale, anche confidarmi, quindi raccontare delle cose che sono intime e che sto mettendo nelle mani degli altri e che potrebbero essere utilizzate contro di me. Gli altri tre li vediamo nella prossima volta. Buona giornata!